Salve a tutti ragazzi, sono Peter e benvenuti finalmente al video acquisti dei mesi di gennaio, febbraio e marzo 2012. Quindi un video che sarà molto corposo, la roba è veramente tanta da farvi vedere, e quindi non mi soffermerò su tutte quante le cose, ma cercherò di andare il più veloce possibile. Prima di cominciare però ci tengo a fare un saluto ad un ragazzo che si chiama Giacomo Cantiello, che mi ha chiesto di salutarlo in uno dei miei video e quindi... Ti saluto volentieri Giacomo, ti ringrazio per il fatto che guardi i miei video, spero che possano sempre piacerti e spero anche che questo mio piccolo saluto possa farti piacere. Ciao! Detto questo cominciamo subito con i manga e per la precisione con la casa editrice per la quale ho preso più volumi, come sempre, la Planet Manga. Abbiamo i numeri 17 e 18 di Soul Eater, di Atsushi Okubo. Per il solito voglio far notare, insomma, a tutte quelle persone che magari non l'hanno ancora fatto, che da 17 in poi l'edizione è un tantino migliorata, ovvero la copertina è più plastificata, meno cartacea, e anche piuttosto più rigida del solito. La carta mi sembra praticamente identica, insomma, abbastanza biancastra e un pochettino trasparente, e soprattutto la allegatura è migliorata, a me sembra notevolmente, anche nel numero 18 la allegatura mi sembra piuttosto buona, quindi per solito devo dire che la Planet Manga sembra che abbia fatto un miglioramento, che ho apprezzato, e quindi a queste condizioni il prezzo di 3,90 è, diciamo, abbastanza giusto. Piccola nota negativa per il numero 17, come sicuramente saprete, è fallato, perché mancano le ultime due tavole finali, cioè queste qui non sono le ultime in realtà, ma ce ne sono altre due che non sono state inserite nel manga. Questo qui, appunto, è ancora fallato, devo farmelo sostituire, e penso proprio che lo farò a Napoli Comic Con, sperando che, appunto, nello stand della Panini vogliano prendersi questo in cambio e darmi una copia buona, e devo anche sostituire Bakuman 10, quindi mi porterò a entrambi i volumi nella speranza che vogliano cambiarmeli. Parlando di Bakuman, abbiamo i numeri 12 e 13, per i quali non mi sembra ci sia stato un miglioramento dell'edizione, almeno per ora. Andando avanti abbiamo ultimo numero 3 e 4, uno shonen che a me personalmente piace, lo trovo abbastanza carino, quindi piacevole. E per finire con la Planet Manga, il nono e ultimo volume di Monster di Naoki Urasawa. Quindi finalmente potrò finire di leggere questa serie, che ho interrotto negli ultimi tre numeri, per leggere tutta quanta la fine di un solo colpo, e con questo numero finalmente potrò farlo. Monster è davvero un capolavoro, e spero di potervene parlare in un prossimo video, quando appunto avrò finito di leggerlo. Passiamo adesso a Star Comics con One Piece numero 62, con questa bella copertina sempre molto piena e colorata, e ovviamente non poteva mancare One Piece Green, un bel volumozzo di quasi 400 pagine, ricco di tantissime cose riguardanti le ultime saghe, ad esempio queste bozze, ma anche altri dettagli, informazioni sui personaggi, e chi più ne ha più ne metta, e poi ovviamente la cileggina sulla torta, possiamo dire, insomma una cosa che fa sempre piacere, sono le pagine a colori, che sono poche, però ci sono comunque, è bello vederle. Questa qui, con tutta quanta la ciurma, e l'ultima è questa qui. Quindi una bella edizione come sempre, un bel volume grande, corposo, da Star Comics, davvero speciale. L'ultimo numero per Star Comics, è un regalo che mi è stato fatto da Nicola475, che mi ha anche regalato un comics, che vedrete, e anche un paio di numeri di anteprima. Quindi ovviamente lo ringrazio di tutto quanto, e questo qui è il numero uno di Fate Stay Night, che sicuramente leggerò prossimamente, per insomma vedere un po' di che si tratta questa saga, che sembra abbastanza carina. Ciò da qualche tavola. E quindi ringrazio veramente Nicola di cuore, per questi pensieri che mi ha voluto regalare, davvero grazie. Passiamo adesso a GP Publishing, con i numeri 5 e 6 di Billy Butt di Naoki Urasawa. Una bella storia, che devo ancora continuare a leggere, perché sono un po' indietro. E purtroppo il numero 5 è una copia fallata. Infatti molti sapranno che alcune copie, non tutte, presentano un errore, ovvero in una delle prime pagine, c'è questa vignetta nella quale non si legge un balloon con le parole, c'è una specie di linea bianca che copre le parole, quindi non si capisce quello che c'è scritto, non si lascia a leggere. Quindi dovrò vedere in qualche modo di sostituirla, perché ancora non l'ho fatto, quindi insomma vorrei avere una copia integra, per così dire. E per finire con GP, il numero 4 di Aiema Hiro, un manga davvero bellissimo, che vi recensierò in uno dei prossimi video. E per finire con i manga, abbiamo due volumi della J-Pop, ovvero Moonlight Act numero 11, di Katsuhiro Fujita. Questo qui personalmente non so se è ancora in corso in Giappone, oppure se è già finito. Se voi lo sapete, fatemelo sapere con un commento qui sotto. Però già sono usciti 11 volumi, quindi penso che prima o poi, insomma, si dovrà avvicinare alla fine. C'è qualche tavola, insomma. Sempre con Katsuhiro Fujita, il suo tratto decisamente particolare. E poi per finire abbiamo Wolf Guy numero 10, serie che dovrebbe essere conclusa con il numero 12, se non sbaglio, quindi ormai siamo praticamente alla fine, quasi, di questa bella storia, molto molto di impatto, molto eccentrica e molto singolare in alcuni casi, anche molto violenta, però per chi ama questo genere così splatter, anche con un po' di fantascienza, però comunque per il fatto dell'icantropi, insomma, roba di leggende e cose di questo tipo, è davvero consigliata. Passiamo adesso ai comics, che sono veramente tantissimi, e iniziamo con una valanga di Spider-Man. Abbiamo il numero 573, con Fear Itself, 574, con la prima parte del ritorno dell'Antivenom, 575, la seconda parte sempre della stessa saga, il numero 1 di Spider-Man Island, ovvero il 576, con i disegni del nostro italianissimo Stefano Caselli, 577, e per finire 578, sempre con la terza parte di Spider-Man Island, questa nuova saga dell'uomo ragno, che ha veramente suscitato molto molto successo da quello che ho visto. Sempre del tessi ragnatele, abbiamo Ultimate Spider-Man numero 12, e numero 13, che appunto, come saprete, è il numero nel quale muore Spider-Man, ovvero il Peter Park dell'universo Ultimate. Io ho conservato la bustina, ma ovviamente l'ho aperta, e questa infatti è la copertina molto tragica, con Mary J e il giovane Peter Parker Ultimate, che ci ha abbandonato, e abbiamo ovviamente anche il numero 1, del nuovo Spider-Man Ultimate, disegnato dalla nostra Sara Pichelli, come leggete anche in copertina, quindi una nuova saga con un nuovo uomo ragno, che questa volta è un ragazzino di colore, quindi una bella cosa del nome, una cosa nuova, insomma, che vedremo come andrà avanti, e sono molto curioso. Sempre per la Marvel abbiamo una nuova testata, ovvero Venom, con il numero 1, che mi è stato regalato da Nicola475, e che ringrazio, il numero 2, e il numero 3. Una nuova testata appunto, nella quale vedremo il nuovo Venom in azione, ovvero Flash Thompson, che indosserà questo costume alieno, per compiere varie missioni, per il governo americano, quindi una nuova testata, davvero originale, per quello che mi sembra, e penso che anche su questa qui, un po' più avanti, farò un video di considerazioni. Altra testata che seguo da un po' di tempo, è Deadpool, con i numeri 8, 9 e 10, che devo ancora leggere, e personalmente Red Bull, non so bene se continuarlo, oppure stopparlo, perché mi piace, però stanno uscendo anche cose nuove, che sicuramente mi interessano di più, e quindi sono un po' insicuro, se fermarlo o meno. Quindi leggerò questi numeri che mi mancano, e vedrò un po' la situazione, però, insomma, per adesso l'ho continuato. Gli ultimi fumetti della Marvel, sono ovviamente, Fear Itself numero 3, 4 e 5. Questo nuovo evento, nuovo per così dire, perché ormai sono tanti mesi che sta uscendo, evento della Marvel, di cui non ho mai parlato in nessuno dei miei video, e sto aspettando appunto che si concluda, tutto quanto l'arco narrativo, per poi fare un video di considerazioni, e pareri personali, a riguardo appunto, su questo evento Marvel, Fear Itself. Adesso passiamo ad un'altra casa editrice americana, ovvero la DC Comics, per la quale ho fatto un sacco di recuperi, e anche qualche novità dell'ultimo periodo, sia per la Prenta di Agostini, che per la RV, la Lion Comics, che recentemente ha acquisito i diritti della DC. Abbiamo tanti recuperi di Lanterna Verde, quasi tutta quanta la nuova serie, Lanterna Verde numero 4, infatti i primi tre numeri, li avevo già recuperati da molti mesi, purtroppo mi manca il numero 5, che fatico a trovare, e infatti ho realizzato questo video, vi metto qui il link del video, per fare una sorta di appello, e aiutarmi a trovare il numero 5, che mi manca ancora, e anche il numero 9, che però, grazie a Dio, ho trovato. Quindi, se per caso volete aiutarmi, guardate questo video, per capire esattamente di cosa sto parlando. Poi abbiamo il numero 6, 7, 8, il numero 9, che veramente è uno di quelli più introvabili, sicuramente, questo qui, eccolo, vedete quanto è bello, anche imbustato, che ho trovato su eBay, da una fumetteria di Reggio Emilia, tipo, mi ricordo bene, e per questo numero ringrazio un ragazzo, di cui purtroppo non so il nome, mi basso soltanto il nickname, perché su YouTube mi ha scritto, guarda che ho trovato un'asta, dove vendono il numero 9, e infatti, io sono andato lì sul link, e l'ho subito comprato, il nickname è Criminal Best, non so come si chiama questo ragazzo, però veramente lo ringrazio, perché mi era sfuggita quest'asta, nella quale vendevano il numero 9, quindi, Criminal Best, qualunque sia il tuo nome, ti ringrazio tantissimo, veramente grazie, perché se non fosse stato per te, molto probabilmente, me lo sarei fatto soffiare. Poi, Lanterna Verde numero 10, che mi ha regalato il mio grande amico Andrea, che studia a Roma, aveva due copie, e quindi, molto gentilmente, ha deciso di regalarmene una, e di questo lo ringrazio tantissimo, veramente grazie Andrea, perché mi mancava, insomma, questo numero, e tra l'altro, mi è arrivato proprio stamattina, quindi all'ultimo secondo, ho potuto inserirlo in questo video acquisti. E poi, tutti quanti gli altri numeri, 11, 12, sono un po' tanti, però ve li faccio vedere velocemente, 13, 14, 15, 16, 17, con questa bella copertina, con tanti personaggi DC, tra cui Batman, Flash, Superman e compagnia bella, 18, l'ultimo numero uscito per la Planeta, 19, il primo numero ufficiale, della Lion Comics, come si legge anche qui sotto, RV, quindi 19, 20, e 21, che appunto è il numero uscito a marzo, e devo prendere anche il 22, che è già uscito ad aprile, davvero, una bella testata lanterna verde, mi piace tantissimo, e quindi veramente spero di poter recuperare il numero 5, perché sono bloccato nella lettura, e non mi va di saltarlo per continuare, quindi aspetterò di trovarlo, e in qualche modo spero di farlo. Gli ultimi comics della DC, sono i numeri 0 usciti a gennaio per la Lion, ovvero sto parlando di Lanterna Verde numero 0, Batman numero 0, ovviamente, Superman, Flash, e per finire Wonder Woman. Questi 5 volumi li ho presi un po' per collezione, per leggervi e per avere, insomma, qualcosa di questi personaggi più famosi della DC. Poi quando, verso maggio, maggio-giugno dovrebbero uscire nuove testate, i nuovi 52, anche se non escono tutti quanti in Italia, penso che prenderò qualche numero 1, così, per vedere che cosa mi interessa e che cosa no, però, insomma, questi qui li volevo avere, quindi li ho presi tutti e 5. Gli ultimi fumetti sono delle Graphic Novel, e sono i volumi 3 e 5 di The Walking Dead, che ho preso nella mia fumetteria, perché erano scontati del 30%, e quindi li ho recuperati, e al Napoli Comic Con prenderò sicuramente il numero 4, in modo da avere tutta la sequenza dall'1 al 5 completa, poi piano piano, insomma, prenderò anche gli altri. The Walking Dead è veramente una bellissima Graphic Novel, che io purtroppo sono un po' indietro, sia nel recuperare che nel leggere. Infatti mi sembra che sia uscito anche il numero 10, se non sbaglio. Inoltre, veramente sta andando fortissimo, anche in Italia, la serie TV, che io personalmente ancora non ho visto, perché mi sono sempre detto, va bene, prima leggo il fumetto, poi dopo vedo il telefilm, però i fumetti sono abbastanza indietro, quindi non so che cosa fare. Secondo voi potrei anche vedere la serie TV senza aver letto i fumetti, oppure rischio appunto di rovinarmi la Graphic Novel in sé, effettivamente, vedendo prima il telefilm? Non so, fatemi sapere con un commento qui sotto, se avete capito quello che ho detto. Comunque, The Walking Dead è veramente una bella opera, che merita moltissimo, quindi se potete recuperatela assolutamente. L'ultimo fumetto è sicuramente il più grande per dimensioni di quelli che vi ho già mostrato, ed è la Graphic Novel Habibi di Craig Thompson, pubblicata da Rizzoli Lizard, in questo volumone assurdo di più di 650 pagine, veramente grandissimo, cartonato, quindi davvero una grande edizione, e una carta fantastica, bianca, bianchissima, per niente trasparente, quindi davvero davvero spettacolo, un'edizione bellissima da parte di Rizzoli Lizard. Questo volume, dal prezzo di 35€, quindi abbastanza elevato, mi è stato inviato gratuitamente dalla Rizzoli Lizard, per recensirlo, quindi io ringrazio Rizzoli per questa nuova opportunità, perché già mi avevano mandato Sassini nel metro, ringrazio anche per questo volumozzo incredibile, e quindi vi annuncio già da adesso che la prossima recensione che uscirà sul mio canale sarà appunto quella di questa bellissima graphic novel di Craig Thompson dal titolo Habibi. Per concludere il video passiamo velocissimamente in un piccolo angolo videoludico, se così vogliamo chiamarlo, in questo periodo ho preso soltanto un gioco per la PS3, ovvero per la precisione GTA 4, ma molti sicuramente già lo sapevano, e l'ho preso così tanto tempo fa che già l'ho finito. È un gioco che a me personalmente è piaciuto molto, sono un grande fan di tutta la serie di GTA, e quindi non potevo non prendere questo capitolo, questo primo capitolo per PlayStation 3. Quindi sono in grande attesa anche per GTA 5, che sono davvero curioso di sapere e di vedere come sarà. Questo qui l'ho preso usato da eBay, però c'è tutto, c'è sia il manuale che la mappetta qui colorata, e anche ovviamente il disco di gioco, quindi un ottimo affare, ha pagato circa una ventina di euro, mi pare. Tra l'altro non è neanche l'edizione Platinum, ma è quella originale, insomma quella diciamo la prima edizione, quindi davvero un gran gioco. Ho anche giocato qualche partita online, però poca roba perché non c'è molta gente essendo un gioco ormai piuttosto vecchiotto, ma io desideravo giocarci da moltissimo tempo e quindi l'ho recuperato. E per finire vi mostro qualche numero di Game Informer, questa rivista da cui mio fratello si è abbonato, cioè per la precisione ha fatto la tessera con il GameStop e quindi gli hanno regalato un anno credo di abbonamento a Game Informer e quindi arriva puntualmente ogni mese. Questo è il numero di gennaio, febbraio, marzo con The Last of Us e anche aprile con in copertina Assassin's Creed 3 con la guerra più americana. Una bella copertina. Game Informer è una rivista abbastanza carina per quanto mi riguarda. Io personalmente la sfoglio ogni tanto dato che arriva a lui. Mi piace sfogliarla per vedere come saranno i nuovi giochi, di cosa si parla, eccetera. E soprattutto in questo quarto numero mi è piaciuto molto quello che c'è dopo la copertina, ovvero questa locandina in due pagine del film dei Vendicatori Avengers dal 25 aprile al cinema che sicuramente andrò a vedere quasi appena uscito e penso proprio che poi farò un video di considerazioni per questo film che si prospetta molto bello e spettacolare. benissimo ragazzi anche questo mega video acquisti è finito qui spero vi sia piaciuto spero vi siano piaciute le cose che ho preso in questi tre mesi del 2012 fatemelo sapere ovviamente come sempre con dei commenti qui sotto nel box informazioni vi lascio come in ogni altro mio video tutti quanti i miei contatti Twitter, Facebook anche Instagram qualunque cosa in modo che possiate seguirmi ogni volta e ovunque volete vi ringrazio per aver visto questo video e vi aspetto alla prossima ciao